C'erano cercate di fare una trapina in fine atto e visto la difficoltà dell'avvenimento ci siamo armati con le nostre pistole e abbiamo risposto a quelli che erano gli attacchi da parte dei malvidenti e poi dicono che hanno scelto. Noi abbiamo visto soltanto due che hanno cominciato a spararci addosso e noi abbiamo cercato di rispondere al fuoco e poi siamo scappati. Ciò che l'ha salvato praticamente è stato l'equipaggiamento che indossate. L'equipaggiamento e la preparazione che ci davano per poter effettuare queste operazioni di routine tutti i giorni. Ci hanno visto scendere, ci hanno fatto arrivare vicino alla porta e poi hanno cercato di farci la rapina. Quanti soldi avevate con voi? Questo non lo so perché noi siamo dei semplici vettori e non sappiamo quanto portiamo. Non sappiamo di questo caso. Sì! E'arlositato! Grazie! Questa è una domanda! La decisione è la mattina che ci sono la domanda e ci siostrate il nostro